Volata a due, e metto subito un gruttetto. Via! Eccola volata, e vince senza storia, Volardi! Volardi, finora da millennio. Ha vinto Ferardi. Innocenti Ferrari. Bravissimo, con il numero 14. Per il resto Mario. Un altro sprint. Bravissimo. Un applauso, bravo, anche questo gruttetto. Chiude con 228. Ecco, ma non è buon era. Con 578 chiude questa gara. E' un buon paradiso. Un altro gruppo. Un altro gruppo. Con fuori con 280. Eccolo sprint. Bravissimo. Due campagne di squadra. Massacra, maia. Attenzione, stare dietro al traguardo. Non attraversate il traguardo, un attimo. 580, termine la sua gara. 289, parte del numero 522. Conclude anche il 580. 26. Bravissimo. Bravissimo. 58, 24. 575, 533. Rettivo di Pabolino, eccola là. 577, 468. Questo sicuramente è uno di Pabolino, conosco la maglia. Si tratta di... 473. Ricciare l'IVA. 282. Conclude anche questa concorrente la prova. La prima donna. Il 141. Eccolo Antonio. Termina la prova Antonio. Ammalato. La prima donna. Con 700. Seconda, seconda donna. Lasciate libero la riva. La riva. Il nuovo millennium. Lasciate libero. Bene. Ecco Fausto la riva. Enrico Valido, col 200. E' enfants il inutile. Bravo. 169 121 121 169 144 144 che l'impatto è qui. Vediamo la maglia bianca. Enrico, sbaglio di Enrico, col 181. Quali uno sento il numero, si trovano una mano fuori, poi il 161. 112, Stefano D'Agami. Bravo! Bravo, Ielo! Per cose che inizia, in gara, in operati, con tutti i pronostici, un'altra donna al traguardo, con il numero, non ci vedo, 710. ecco altri via della squadra. Con il numero 121, un'altra categoria donna. Sarà il pranzo del ciclista, chi vuole, ecco un altro concorrente, il numero, il 722. questa è bella che fa lo penso, dire, non ho tanto la gamba, in qualche modo. Gravissima, con 120 gradi, e arriva a attivare, il pranzo del ciclista, con 8 euro. di un numero, il primo, il primo, il primo, il primo, il primo. Allora, le premiazioni, ci saranno, il Palatenda, l'Infinita, eh, premiazioni, eh, scontino, tutto, l'Infinita. Tra, ma, altri ciclisti all'arrivo. Grazie. Vai, dai, 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 dai. due, l'Uca, non ti ho conosciuto. Tra... Adesso, segui, abbiamo chiudica. C'è l'Infinita, C'è l'Infinita. C'è l'Infinita. Pininita. d'Infinita. Dio, adesso, dico, Adesso, vico. L'Infinita sono questi, mentre le donne la prima è Elena Pancari comunque adesso andiamo tutti a fare la tenda